. Incidente per Alessia Marcuzzi, è successo a casa. La foto preoccupa i fan. . Piccolo ma fastidioso incidente per Alessia Marcuzzi. La neoconduttrice della Iene, infatti, su Instagram ha postato una foto che mostra il dito del piede fasciato. . Caro Chiocciola Nicosavi, dovrai prendermi in braccio mercoledì prossimo alle Iene. Mignolo fratturato mentre giocavo a nascondino, ha scritto la conduttrice in calce alla fotografia. . Mercoledì prossimo Alessia Marcuzzi dovrà tornare alla guida delle Iene, programma di cui ha ripreso le redini la scorsa settimana insieme alla collega Nadia Toffa, prendendo il posto di Ilari Blasi, adesso impegnata nella condizione della terza edizione del Grande Fratello Vip. . E difficilmente la sua frattura al dito del piede passerà inosservata, com'è difficile che la conduttrice riesca a rimettersi in pochi giorni. . La conduzione imminente è dunque a rischio, a meno che il programma trovi un escamotage per non privarsi comunque di Alessia. Sarà proprio Nicola Savino a portarla in studio in braccio? Chissà come andrà a finire. Intanto sono tanti i commenti dei fan di Alessia Marcuzzi, che dopo avere visto la foto del suo dito fratturato le hanno scritto. . In molti, infatti, le hanno posto i migliori auguri di pronta guarigione, mentre altri hanno ironizzato sul fatto che l'incidente fosse avvenuto mentre giocava a nascondino con Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti. . Grande Ale, solo tu potevi farti male giocando a nascondino, tanti auguri Alessia, vedrai che ti rimetterai presto. Non è niente di grave. . . Proprio qualche giorno fa, intervistata dalla rivista Chi, la conduttrice delle Ieni aveva raccontato di essere un vero maschiaccio a casa. In amore sono una gescia, aveva raccontato, vizio il mio uomo in tutto. . Poi, però, all'improvviso mi raffreddo e la verità è che non sono mai quieta, sento sempre la terra tremare sotto i piedi e ho bisogno di quella scossa sono una gatta selvatica. Mi piace essere sexy nelle foto perché è un gioco. . 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